confrontone bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a fare il super confronto fra le SFI che vi avevo già annunciato in qualche video fa vi do la mia esperienza dopo 12 mesi di utilizzo delle SFI di Nexo e BlockFi già ve lo anticipo a crypto.com anche mentre dopo qualche mese di utilizzo invece delle altre SFI quali celsius yield up e poi l'ultima proprio di cui vi ho parlato qualche tempo fa che è quella di wirex andiamo però a fare un super confrontone perché vi ho preparato anche una lista di features che ho valutato per queste SFI e poi andiamo a capire quale di queste adatta per esempio per il learning legato alle criptovalute quale invece più adatta magari per quelle legate alla stablecoin allora ci sono pro e contro quelle per gli euro quelle per le altre ma in particolar modo mi premeva a farvi capire un po' alcuni concetti che analizzeremo alla fine di questo video quindi daremo i voti da 0 a 5 ho deciso di fare così ragazzi vi spiegherò anche quello che sono andato a combinare con alcune SFI soprattutto Nexo perché ho utilizzato anche la funzione di prestito che loro avevano per fare una operazione in super leva e tutto quello che sono le potenzialità di queste di queste piattaforme comprese i dischi insomma eccetera allora ragazzi prima di andare nel vivo di questo video vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatta lasciatemi mi piace perché mi date una mano poi per tutte queste piattaforme vi lascio il link in descrizione ovviamente se li usate alcuni di loro hanno degli sconti alcuni di loro mi danno qualche ref e mi date una mano contribuire anche al matrimonio del canale alle attrezzature perché ho comprato 2000 attrezzature chi ti vuole non le ha viste c'è una storia sul mio canale instagram delle attrezzature che sto acquistando ragazzi perché sto rifacendo tutto lo studio insomma eccetera va bene allora andiamo subito a vedere la le nostre varie SFI ragazzi allora quelle che ho in questo momento utilizzato sono Nexo che è quella che ho utilizzato più di tutti insieme anche a block file perché erano le prime due che avevo utilizzato lo scorso anno sono andate molto bene adesso vi dico anche chi più e chi meno e soprattutto anche quelle che sto utilizzando in questo momento perché alcune le ho eliminate ve lo avevo accennato nel nei precedenti video poi ho aggiunto più in là la questione legata a cripto.com con la loro funzione di earn nella applicazione del telefono quindi non ho utilizzato quelle le altre insomma sto utilizzando anche la loro defy wallet con la funzione earn per quanto riguarda cripto.com quindi proprio il cr o e poi ho aggiunto la se fai di celsius da pochissimo e poi yield up che come sapete è stato un progetto che ho sposato in pratica perché hanno dei rendimenti altissimi mi piace l'idea che danno di fondo è quello che stanno facendo anche per il token che hanno estremamente con una capitalizzazione estremamente bassa che potrebbe essere diciamo vantaggioso da alcuni punti di vista e poi l'ultimo wirex per il fatto che ha questa sua questione legata all'euro molto molto alto come rendimento quindi sempre questione rendimenti per quanto riguarda wirex allora ragazzi nexo partiamo dal primo nexo secondo me è la se fai più grande rispetto a questa insieme a celsius ovviamente anche celsius è grandissima però ragazzi devo essere sincero mi è piaciuto molto l'utilizzo di nexo ed è una delle mie piattaforme se fai che sto utilizzando in questo momento anche con capitali importanti per quanto riguarda bitcoin e th allora la mia valutazione delle se fai è basata sulle criptovalute non su usdt cioè no sulle stable perché ragazzi perché perché intanto le stable messe a rendita ce ne sono veramente tante però la questione è personale anche perché io ho un trading system che utilizzo per la gestione delle stable coin che rende intorno al 20 per cento 18 20 per cento anno quindi per me andare a utilizzare altre piattaforme e non avere il controllo delle mie stable per esempio aveva poco senso quindi devo essere sincero è un po questo il problema non ho mai utilizzato queste piattaforme di se fai mettendo a rendita delle stable coni perché preferisco ovviamente avere le mani in passa direttamente utilizzando i miei trading system che lavorano su bitfinex ed avere un rendimento che posso gestire in autonomia so quello che sto facendo è vero che le stable sono sempre su un exchange però sicuramente prediligo il deposito delle stable coin su un exchange piuttosto che di depositarle appunto su questo tipo di piattaforme secondo me gli exchange sono un po più sicuri allora prima è unica volta diciamo prima regola legata a questo video ragazzi non do consigli finanziari non sono consigli finanziari tutto quello che vedete qui è la mia operatività e la mia opinione quindi non andate a pensare che sto dicendo coste legate a questioni finanziari e poi soprattutto la sicurezza tutte queste piattaforme e in tutte queste piattaforme voi non avete il vostro il possesso delle vostre cripto perché state andando a dare le criptovalute a terze parti questa è la questione legata alla differenza fra avere le chiavi private dei vostri wallet e il non averle prima di andare a fare questo tipo di chiamiamoli così investimenti questo tipo di operazioni andate ad informarvi di cosa significa perdere il possesso delle cripto e tutti i rischi connessi a questa cosa perché è importante andare a capire questa situazione qui ragazzi altrimenti poi ci troviamo in situazioni di poco conto io ovviamente diciamo la questione legata al perdere il possesso delle nostre cripto è legata alla questione di non mettere a profitto il le cripto che abbiamo in portafoglio quindi lasciarle ferme per esempio su un wallet è vero che si può utilizzare la DeFi faremo anche un bilione anche su quella però è anche vero che la DeFi ha dei rischi connessi comunque che sono quelli dell'hack e di tanti altri fattori anche semplicemente il rischio di fare operazioni sbagliando operatività o restare bloccati per via delle gas fee di ETH insomma secondo me la soluzione free risk tra virgolette diciamo così è quella di tenere le proprie cripto sull'u-wallet privato se andate a spostarle su altri servizi come questi che stiamo vedendo oggi ovviamente dovete capire che state mettendo a un rischio maggiore il vostro portafoglio chi più chi meno allora andiamo a valutare quelle che sono le singole operazioni le singole piattaforme in base a queste features che ho elencato ragazzi diamo i voti diamo la parcella almeno secondo la mia esperienza ma vi chiedo anche come sempre il vostro il vostro contributo dicendomi anche voi cosa ne pensate allora per quanto mi riguarda ragazzi nexo semplicità io da 0 a 5 a nexo do la sia il voto di 5 stelle ragazzi aumentiamo anche un po il il font e così insomma vediamo meglio un po anche queste cose qui allora ragazzi perché do 5 annexo perché la piattaforma è veramente molto semplice secondo me da utilizzare e intuitiva all'app sul telefono quindi andate ve la scaricate si capisce subito dove il wallet quando andate a cliccare come si va a a vedere il rendimento giornaliero insomma è molto semplice intuitiva non ha particolari difficoltà anche l'accesso è molto semplice ragazzi perché anche questo si è vero sicurezza e 2 fa tutto quella baranama però a volte abbiamo bisogno anche di velocità di avere accesso se voglio controllare devo mettere 6000 codici ogni volta sul mio telefono ma fammi lo scan del viso e fammi vedere che cos'ho lì sopra e come stanno andando va bene allora ci sono sempre c'è un leggero trade off tra la sicurezza e anche la semplicità e bisogno tenerne conto quindi nexo sicuramente 5 rendimento allora sul questione rendimento io nexo direi un bel 3 perché ha dei rendimenti non molto alti ma neanche molto bassi allora vi faccio vedere quelli che sono le questioni legate ai rendimenti di nexo nexo utilizza il proprio token per farvi aumentare il rendimento quindi se andate ad acquistare in exo token il rendimento aumenta quindi vi danno un benefit di più 2 in questo caso su tutti i tassi di interesse pagati mentre se avete il rendimento nella cripto di riferimento restate su tassi inferiori ragazzi allora qui ancora una volta pro e contro come si fa a calcolare beh bisogna andare a vedere il grafico del nexo token rispetto alla vostra cripto di riferimento quindi in questo caso ho utilizzato per esempio ith su nexo e bitcoin è andato benino ma non benissimo perché poi nell'ultima parte contro bitcoin per esempio è crollato contro il terreno non ne parliamo quindi sarebbe stato meglio quasi sicuramente andare a prendere il mio earning direttamente nella cripto perché quei due punti sono un po farlocchi allora qui iniziamo a vedere le questioni ragazzi perché sono un po farlocchi perché in in realtà quando noi andiamo a vedere queste cose diciamo se prendete rendimento nel mio token guadagnate il 2 per cento bisognerà poi capire se effettivamente quel token non si va a svalutare rispetto alla valuta di riferimento di più di questo 2 per cento e questo il problema quindi ok che vi pagano il 2 per cento in più ma se poi il token perde il 30 per cento rispetto alla valuta di riferimento quel 2 per cento è fittizio quindi non è vero quindi sarebbe sempre meglio andare a valutare il grafico del token di riferimento rispetto alle stable coin o alle cripto valute che avete messo a rendita questo è fondamentale qual è la mia esperienza con nexo poi c'è il lato sicurezza sicuramente nexo da questo punto di vista ragazzi ha dei valori estremamente diciamo importanti perché ad esempio c'è il compound in quanto vi da il daily payout e questo è vero poi è flessibile perché questi rendimenti che abbiamo visto sono più o meno anche flessibili io sto utilizzando anche il loro sistema fixed che però dura un mese quindi è accettabile perché dopo un mese potete ritornare la flessibilità quindi va benissimo poi hanno la questione legata all'assicurazione molto ghiotta questa cosa ragazzi però 375 milioni sui loro conti sono poca roba sono sincero veramente hanno tantissimi capitale comunque questo invece è un grande valore aggiunto withdrawal con 0 fi quindi se andiamo a togliere le cripto da nex non paghiamo e questo è molto 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 buono a poi andiamo a vedere insomma vi faccio vedere ancora andiamo a dare altri voti con il mio super schema quindi flessibilità di nexo io direi assolutamente un bel quattro e poi sicurezza io anche qui a livello di nexo do un bel 4 su 5 perché secondo me tra le seppai che utilizzato è quella che dà più la sensazione di essere imponente in termini di azienda grossa che comunque fa le cose per bene anche se secondo me blog file sul lato sicurezza è un pelino più alto ecosistema completo cosa significa la possibilità di utilizzare le nostre cripto presenti nella piattaforma per essere spese con la carta e per andare a cambiarle con altre cripto quindi fare la questione legata al trading ecosistema di nexo è imperfetto perché la carta non c'è ragazzi quindi l'unico modo per spendere le vostre cripto e i rendimenti per esempio le vostre cripto è quello di prelevarle mettervele sull'exchange caricare una vostra carta e andare a spenderla quindi direi che come ecosistema non gli diamo proprio uno perché c'è il lato borrowing però gli diamo un 2 anche perché l'altro trading invece qui è il noto è il tasto dolente allora nexo vi fa fare l'operazione di trading però c'è una commissione implicita cioè lo spread ragazzi quando andate a cambiare per esempio bitcoin io l'ho fatto con stable coin perché per esempio volete uscire in quanto bitcoin sta crollando magari volete fare un'operazione di trading vi fanno pagare uno spread che non è convenzionale ok è uno spread intorno all'1 per cento quindi cosa significa significa che se voi avete depositato dei bitcoin per esempio all'interno di queste piattaforme questo lo fanno praticamente tutte alcune di queste che le demologiche non fanno neanche lo scambio quindi neanche la funzione trading però in questo caso un 1 per cento di spread sostanzialmente siamo lì è molto rilevante perché ci porta poi alla problematica che vedremo più in là questo tipo di piattaforme non sono idonee se voi volete mettere delle criptovalute e tenerle qualche settimana perché poi se state facendo speculazione dovete restare sugli exchange in quanto andare a cambiare poi nelle stesse piattaforme è vero che si può fare ma vi mangiate l'intero rendimento probabilmente che avete avuto durante l'anno quindi io direi che il trading è stato molto veloce su next o molto preciso quando ho fatto la mia operazione quindi non ho avuto gravi difficoltà però sono sincero è stato molto costoso quindi anche qui gli diamo un 2 e già la possibilità c'è e ci mancherebbe però abbiamo sicuramente un 2 e qui vi ho fatto anche un resoconto dei guadagni che ho ottenuto quelli veri perché io ho aggiunto il la questione legata alla ottenere il rendimento con il nexo token ho avuto il 7 8 28 mila per cento che loro indicano loro indicano fino al massimo dell'otto per cento io ho avuto un rendimento vero intorno al 5 per cento perché perché il token nexo si è svalutato rispetto al mio deposito è perché dovete avere un tot di nexo per raggiungere quei tipi di rendimenti in quanto ci sono i tier anche su nexo quindi avete il basic il gold il platinum quindi se non avete i nexo depositati dovete andare a depositarli per ottenere quei rendimenti quindi insomma ragazzi a giochi fatti il rendimento vero che ho ottenuto è stato il 5 penso che quest'anno potrò ottenere un rendimento maggiore se non uso il learn in nexo però dovrò mantenere comunque in nexo che ho guadagnato perché altrimenti perdo il tier quindi anche questo pro e contro andate sempre a guardare il grafico se volete ragionare allora il costo di un trade effettuato l'un per cento quindi in pratica un totale netto hanno intorno al questo è un meno non è un più intorno al 4 per cento ragazzi che in linea con quelle che sono le altre le altre se fai però è un modo di farvi capire un po' a cosa dovete stare anche attenti quando andate a utilizzare questo tipo di servizi perché se poi è un po' come la famosa commissione di un euro per il conto della posta ragazzi ok è gratuito però ogni operazione ha pagato un euro alla fine pagate il doppio di qualsiasi conto bancario senza avere nessun servizio allora questa è la questione quindi bisogna andare sempre a capire cosa ci fate e cosa non ci fate resta comunque una super se fai quella di nexo sicuramente per quanto riguarda la semplicità la flessibilità e la sicurezza passiamo a bloc fai allora bloc fai eccola qui bloc fai amore d'odio ragazzi iniziata alla grande ho dovuto abbandonare questa se fai perché io uso le se fai principalmente per il permettere in earn bitcoin ed eth e man mano che passava il tempo bloc fai ha iniziato a ridurre totalmente i rendimenti su bitcoin ed eth quindi che stavo lì a fare è stata quella che aveva iniziato bene perché perché ci dava mensilmente i rendimenti in valuta bitcoin non dovevamo andare assolutamente a fare cambi non dovevamo andare a mettere token alternativi a comprare nulla ragazzi prendiamo bitcoin ci davano i bitcoin faceva compound mensile non giornaliero ma funzionava questa cosa ci dava rendimenti buoni intorno al 4 5 per cento non erano altissimi ma comunque non erano male fatto sta che pian piano ci ha ridotto con i vari tier ci ha ridotto ve lo faccio vedere tutti quelli che sono i rendimenti su bitcoin e adesso addirittura ragazzi siamo passati al rendimento del 4 5 per cento che è uno specchietto per le allodule perché perché solo fra dato fino a 0 1 btc quindi ok se avete 0 1 btc che non sono pochi comunque sono 5 mila dollari più o meno però ragazzi 0 1 btc quindi stanno indicando questo tipo di se fai per piccoli investitori giusto per stare lì per mettere un po di liquidità un po ai piccoli perché dopo vi danno in pratica l'uno per cento fino a 0 35 btc e addirittura sopra 0 35 btc lasciatemelo dire non vi pagano niente perché in pratica c'è che ce li tenete a fare allora la questione è un po questo la stessa cosa hanno fatto con eth però con eth fino a un eth e mezzo vedete e poi fino a 50 eth all'uno e poi 0 in pratica 0 25 che è pochissimo sulle stable sono un po più forti perché per esempio hanno l'825 su usdc anche fino a 40 mila dollari quindi loro sono molto più forti sulle stable quindi devo essere sincero vedete hanno dei buoni rendimenti anche per tanta tanta tanto deposito su tutte le stable coin non sono altissimi e comunque sono accettabili rispetto alla alla concorrenza vi faccio vedere e anzi andiamo a mettere anche poi la questione legata a una problematica che ho avuto su blog ci mettono un sacco di tempo a spostare i fondi è vero che non pagate ma ci mettono un sacco di tempo due tre giorni ragazzi allora due tre giorni però nella questione delle cripto e bisogna valutarlo se ogni tanto è un po troppo poi sono macchinosi adesso hanno migliorato l'applicazione che era prima estremamente macchinosa perché per entrare dovevi mettere mille codici adesso non è più così quindi l'applicazione è migliorata alla grande e poi mi piace che sanno che hanno una questione legata alla sicurezza secondo me molto a cuore quindi io direi che blog file secondo me è una delle migliori piattaforme si fai sulla sicurezza però purtroppo mi hanno permesso di continuare all'utilizzo in quanto io utilizzando bitcoin e ethereum praticamente non mi davano niente non 4 4 speech e diciamo così quindi semplicità blog file direi un tra i ragazzi rendimento assolutamente un 1 per quanto riguarda la mia personale il mio personale utilizzo che vi ripeto non è legato alle stable coin ma al critto in quanto tale flessibilità della piattaforma c'è un bel 5 perché non ci bloccava nulla non ha mai bloccato i fondi non c'è nessuno svincolo da fare quindi non ci sono questioni legate ai token personali da comprare eccetera quindi assolutamente blog file un 5 poi abbiamo sicurezza che darei assolutamente un 5 ancora una volta ecosistema praticamente ecosistema stanno testando adesso la loro carta però io non ho avuto modo di testarlo quindi al momento non c'è niente anche lato trading agli stessi costi più o meno ragazzi di nexo quindi io direi un 2 e un 2 anche ancora una volta qui questa è la questione un po legata anche a blog file ragazzi andiamo a vedere il mio i miei 12 mesi come vedete rendimento molto basso il 3 per cento l'ho utilizzata anche questa per fare un'operazione di trading è stata quello che è stato insomma e alla fine sono andato a ragazzi sono andato a guadagnare in pratica in un anno pochissimo perché è un gain del 2 per cento e secondo me non in linea con il mercato quindi questa storia del rendimento che poi è molto rilevante secondo me può essere un lato veramente negativo di insomma se si utilizza blog file per la questione legata alle cripto non alle stable alle stable invece è ok allora partiamo alla terza che è celsius la sto provando da poco mi piace tantissimo perché da dei rendimenti chiari e lineari soprattutto non c'è l'obbligo della questione del loro token e il cell e che bene alcune situazioni però dipende sempre da quello che il il vostro utilizzo perché per altre cripto necessita per esempio per stable necessita però per quanto riguarda bitcoin e th ha dei tassi che sono accettabili e adatti per quanto mi riguarda infatti tutto quello che è il deposito di blog file è confluito su celsius ragazzi allora questi sono i loro numeri sono tra l'altro una delle prime ad aver avuto degli asset veramente rilevanti in gestione hanno dei rendimenti molto molto in in linea molto alti in alcune situazioni non altissime però comunque in linea vedete qui c'è su bitcoin fino a 6 e 20 fino a un bitcoin dopo andiamo al 3 e 51 ci può stare un po non è altissimo c'è sempre questo limite di un solo bitcoin però comunque un bitcoin sono già 50 mila dollari ci può stare assolutamente il 6 e 20 lo stanno pagando regolarmente ogni settimana arrivano i depositi di bitcoin non arrivano quindi in token proprietari quindi non c'è problema non c'è bisogno di andare a fare dei vari cambi eccetera e questo è importante perché c'è l'effetto compounding del bitcoin andiamo a dare anche qui i voti per quanto riguarda celsius e direi ragazzi semplicità allora la piattaforma di celsius e anche l'applicazione secondo me è quella meno semplice di tutte rispetto a blockfi nexo e yield up non ha ancora la sua app poi qui manca wirex ancora wirex per esempio ha una una buona app però ragazzi è ovviamente una carta quindi wirex è un po diversa da queste piattaforme quindi se direi che è quella un po meno semplice e c'è meno intuitività nella sua applicazione non è che poi sia così strana però io l'ho trovato un pochettino meno intuitiva a livello di rendimento direi che ci siamo siamo intorno a quello di nexo e quindi gli do un bel tre a livello di flessibilità invece siamo come blockfi perché non ci sono vincoli non c'è nulla a livello di sicurezza secondo me siamo un pelino sotto nexo e blockfi perché perché c'è la questione legata al fatto che però che sono molto grandi però sono anche molto speculativi assicurazione si assicurazione no lo solito discorso gli diamo un bel 3 ecosistema completo qui non esiste proprio l'ecosistema non ho trovato neanche modo di andare a svuopare insomma e fare per esempio il cambio con delle criptovalute non l'ho approfondito sono sincero questa cosa ragazzi perché alla fine come vi dicevo prima secondo me l'SFI per andare a fare trading assolutamente dimenticatevi questa cosa non ho avuto il tempo di fare un prelievo quindi non so ancora come funziona da quel punto di vista però a livello di ecosistema mi sembra più o meno ai livelli di nexo e blockfi quindi con un 2 e a livello di training e non pervenuto perché ragazzi non c'è questa questa questione o comunque o meno io non sono riuscito a approvarla ancora quindi non posso dare un voto all'applicazione se non l'ho ancora approvata stessa cosa per quanto riguarda i guadagni ottenuti aspettiamo un po di tempo 12 mesi per aggiornare questa guida magari aggiorneremo man mano e vedremo passiamo a crypto.com chi non la conosce praticamente tutti conoscono crypto.com a livello di carte ecosistema sicuramente uno dei migliori e a livello di earnings ha un solo difetto ragazzi la questione secondo me è legata alla flessibilità perché anche qui per quanto riguarda bitcoin in tanti tassi non sono altissimi ma se io metto il rendimento flessibile il tasso è talmente basso che praticamente non ha non ha praticamente senso da essere messo qui essere utilizzati tra le altre cose se scendete con pochi cro in stake e praticamente vi danno quattro spicci sul tre mesi e quindi bloccati per tre mesi se avete oltre i 4.000 cro addirittura oppure 40.000 vi danno un rendimento molto alto su bitcoin però 40.000 cro sono consistenti ragazzi sono comunque investimenti consistenti non lo token insomma dovete poi tenere presente la questione legata al fatto che sia possibile che si vada a svalutare il cielo non è che sia un token che sale sempre insomma anzi e quindi bisogna ha lo stesso atteggiamento più o meno del next token questo è quello che stanno facendo e poi andiamo a vedere per esempio la questione legata quindi diciamo mettiamo qui un 4.000 che invece questo è più comune di averli in stake per avere anche la carta abbiamo 6.50 su eth però ragazzi ancora una volta vincolo a tre mesi perché se scendo il flessibile su eth scendiamo un tasso molto più basso di nexo quasi la metà insomma nini da questo punto di vista credo che l'unico vero difetto di crypto.com in questo momento sia proprio quello legale alla questione dei tassi e dei rewards allora semplicità crypto.com abbastanza semplice ma ma chi nota la questione li tengo sull'exchange li tengo nelle file allora l'app è più o meno semplice quindi state sull'app se volete un po di semplicità gli diamo un 3 a livello di blocfi per quanto riguarda il rendimento è un 2 sicuramente perché veramente non è basso come blocfi non vi rende inutile diciamo l'utilizzo perché comunque con uno fixed ed di un qualche mese riuscite a gestire la questione però non è assolutamente bassissimo non è altissimo ragazzi poi a livello di flessibilità anche qui ce n'è poca perché o vado a bloccare i miei rendimenti oppure la questione è praticamente quasi inutile e poi devo avere il token insomma in questione quindi non mi è piaciuta la questione flessibilità di crypto.com è un altro 2 per quanto riguarda la sicurezza ritengo crypto.com sicuramente un'azienda molto importante e quindi gli diamo anche un altro 4 come nexo secondo me perché siamo lì anche vero che bisogna starsi attenti sulla questione regolamentazione perché abbiamo visto bainanze anche loro che il punto com deve un po smanettare quindi potrebbero esserci diciamo insomma le stesse cose di bainanze però poi sistemeranno sicuro perché sono una grande azienda allora ecco sistema sicuramente crypto.com all'ecosistema più completo di tutte queste app e quindi gli diamo un 5 perché l'ecosistema ti permette di fare trading di switchare dall'exchange alla defy wallet all'interno della stessa app alla carta della migliore con il cashback tra i top insomma funziona con tutto e c'ha le carte vi dà la possibilità di trasferire utilizzando la nota interna insomma fanno anche grandi progressi dal punto di vista di blockchain stanno facendo delle grandi cose quindi assolutamente ecosistema migliore non c'è il dubbio e poi per quanto riguarda il trading gli diamo anche un altro 4 perché è vero che c'è il problema che se fate il change all'interno della carta vi fregano tutto il cashback perché caricare la carta poi si prendono però lo spread anche loro quindi alla fine in pratica azzerano il rendimento del cashback a meno che non avete la carta al 3 per cento ragazzi sono questi meccanismi interni che ovviamente queste aziende utilizzano per gestire un po il tutto quindi da una parte il marketing e da una parte ovviamente la realtà del business non è che possono regalarvi soldi ok ci sta questa cosa quindi bisogna un po capire come si lavorano però a livello di trading potete switchare sull'exchange loro e pagare delle fiche sono molto basse quindi ci sta assolutamente ed è l'unica che ha poi una vera piattaforma di trading e un exchange rispetto alle altre quindi questa cripto.com ragazzi allora passiamo poi a yield up che invece yield up e guinex sono le due utilizzate per in pratica ragazzi avere maggiori rendimenti perché proprio questa la differenza rispetto alle altre 4 se fai ed è anche il motivo per il quale io le ho aggiunte ragazzi perché è vero se da una parte abbiamo più sicurezza struttura aziende che sono un po affermate che vanno e stanno in piedi da un po di tempo dall'altra però abbiamo rendimenti bassini cioè non sono altissimi quindi quali sono invece le se fai che possono dare maggiori rendimenti a accettando un rischio un po maggiore e sono queste due ragazzi secondo me sono veramente interessanti allora partiamo da yield up che ormai avete visto insomma ho fatto diversi video quindi andatevi a vedere allora bitcoin fino al 12 per cento se avete il tier 5 con il loro yld è vero che anche qui c'è il token però ho già spiegato in un video precedente che il token yld è sotto capitalizzato rispetto agli altri quindi la possibilità che vada a crollare un po più secondo me bassa rispetto per esempio a un next on sell perché quelli veramente hanno una cap molto alta ragazzi quindi anche vero che se ce l'hanno è perché l'azienda è di grande qualità però andare a riprendere poi quei rendimenti in un token che vi paga e poi può scendere di prezzo fa quel discorso diciamo ci obbliga a quel problema che vi ho detto mentre nel caso specifico di yield up questa cosa non c'è perché non ci pagano il rendimento in yld ce lo pagano nella valuta quindi io ho messo lì bitcoin sta performando con il 12 per cento e ho anche raddoppiato il mio investimento ve l'ho detto nel video precedente proprio perché è un rendimento molto alto lato sicurezza loro investono i progetti defy quindi investono in tanti progetti defy però lato sicurezza sicuramente indicano qui ragazzi tutto quello che fanno si parla anche di una forma di assicurazione secondo me arriveranno notizie a breve anche da questo punto di vista con assicurazioni mirate per quanto riguarda gli yield up in ogni caso è una new entry da poco anche il token yld è arrivato su bitrex per essere tradato e sta facendo secondo me è bene quello che sta facendo hanno raccolto tantissimo ragazzi e hanno un buon capitale sotto gestione ovviamente per avere rendimenti del genere ragazzi è più speculativa assolutamente rispetto a nexo block fai non ne parliamo altre andiamo a dare il voto ancora una volta io la uso per fare il rendimento di bitcoin in particolar modo ed è th e vi faccio allora diamo il voto anche a yield up la semplicità ragazzi è vero che non c'è l'applicazione sul telefono ma se voi entrate anche in web sul telefono l'applicazione è di una semplicità disarmante perché non c'è veramente niente non è che vi confonde con altre cose quindi depositate investite tirate fuori prendete rendimento è veramente semplice ragazzi quindi 5 rendimento neanche a parlarne forse il migliore che c'è in questo momento online quindi 5 sicuramente flessibilità allora non ci sono particolari vincoli su et h per esempio ma ci sono su bitcoin perché in questo momento io ho dato i miei bitcoin in rendita sono bloccati per tre mesi e come sapete a me questa cosa non piace però è anche vero che un rendimento del 12 per cento ragazzi il doppio in pratica perché viene pagato 6 per cento in wealthy 6 per cento in bitcoin quindi si smorsa anche l'effetto che vi dicevo prima legato alla svalutazione del token nel loro proprietario che comunque già di suo è poco capitalizzato quindi difficilmente possa scendere insomma meno che non ci sono gravi danni e ragazzi quindi flessibilità però a questo vincolo del dei tre mesi che secondo me potrebbe essere un po sistemato meglio comunque in ogni caso e il resto è accettabile hanno dei costi un pochettino più alti per fare i withdraw quindi sicuramente non sono ai livelli di nexo e block file quindi io direi di dargli un due come clip punto com perché più o meno siamo lì con questa questione su bitcoin su et h però e le altre stable no perché quelle sono depositabili e tirabili fuori ragazzi quando volete quindi sempre dovete capire che questi punteggi che sto dando sono sempre in base al mio strettonale personale utilizzo sicurezza gli do un bel 3 sicuramente è una piattaforma che sta progredendo bene e bisognerà capire appunto dove dove andrà tra il 3 e il 2 ragazzi poi ovviamente anche qui è soggettiva la questione cosi steno assolutamente non ce l'hanno perché lo stanno sviluppando quindi sono partiti da pochissimo quindi ecosistema diamo un bel 1 perché per io vediamo diciamo sulla 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 parola e anche a livello di training è vero che c'è la possibilità di fare degli squoppi interni però siamo ancora molto indietro rispetto ad altre piattaforme perché se andate a switchare non potete fare tutto per esempio non si possono vendere i guai al di accumulati e in altre valute insomma è ancora prematura questa cosa ragazzi quindi gli diamo anche qui un 1 perché queste due parti secondo me sono quelle ancora da migliorare detto questo lo yield up come super e piattaforma di rendimento con tassi elevatissimi andiamo a vedere l'ultima che è quella di wirex e poi ragazzi facciamo tiriamo su le somme di questo super video tutorialone gigantesco allora wirex ragazzi è da poco insomma che ha aperto i suoi x account e legata soprattutto a me piaceva la questione legata ai tassi di interesse sugli euro più che sulle crypto che comunque sono alti se per esempio vi fate pagare in vxt loro token sono alti vi danno il 10 per cento di bitcoin ma non è il 12 di yield up a questo punto preferisco utilizzare yield per i miei bitcoin e comunque se non prendete i vxt che è un token che non va benissimo e lo prendete in bitcoin vi danno il 6 e a quel punto c'è la questione legata al fatto che va in concorrenza con celsius per esempio quindi io la vedo molto bene per esempio sul lato dei degli euro che secondo me insomma un 12 un 16 per cento di euro insomma non è assolutamente male poi un'alternativa ragazzi anche perché hanno la carta vi permettono di vendere direttamente i rendi i rendimenti diciamo di utilizzarli e fare subito il i vostri acquisti allora andiamo a vedere la questione e anche qui del punteggio allora semplicità wirex è veramente semplice ragazzi è una carta come quella di cripto punto com avete l'applicazione entrate dentro fate queste cose anche vero che all'interno c'è un po di meccanismi che ogni tanto si vanno a bloccare che l'assistenza tecnica è migliorata molto negli ultimi periodi però ha avuto i lag secondo me qualche periodo fa quindi gli diamo un bel 4 allora a livello di rendimento se andiamo a valutarla per gli euro va bene se andiamo a valutarlo per tutto il resto non è sicuramente all'altezza di yield up quindi anche qui io darei un 3 rispetto alle altre proteforme paragonandola più o meno a celsius ma come vi dicevo secondo me è molto più utile per mettere a rendita gli euro in questo momento flessibilità all'interno fare change e tutto il resto ragazzi non è una piattaforma secondo me adatta come cripto punto com è un po più o meno simile a yield come struttura quindi a livello di flessibilità però non vi vincola il le somme come gli altri quindi non ci sono vincoli su quello che andate a mettere questo può essere positivo quindi qui diamo un 3 giusto per la questione legata ai vincoli allora secondo me come sicurezza siamo alla stessa stregua di yield e celsius perché e werex è una azienda un po vecchiotta diciamo c'ha gli anni alle spalle però anche vero che si sono dovuti ricreare riformare da capo e secondo me possono aggiungere anche nuovi servizi come le assicurazioni che hanno che sono un po bastine milioni assicurati insomma ragazzi gli diamo un bel 3 giusto per tagliare testa al toro ecosistema non è completissimo come quello di cripto punto com ma in questo caso loro hanno la carta e questo è un fattore positivo quindi li porta secondo me ad una stregua superiore rispetto a agli altri competitors e quindi anche qui gli diamo un bel 3 in termini di ecosistema per quanto riguarda l'azot trading si c'è la possibilità di utilizzarlo all'interno ragazzi ma anche qui è un po come la questione di yield ancora secondo me macchinosa ancora molto costoso e quindi andare a fare questi switch all'interno della carta solo se ne avete esigenza altrimenti è meglio evitare il trading ragazzi bisogna farlo sui exchange e quindi anche qui diamo un 1 bene allora questi secondo me sono più o meno tutti i punteggi di queste se fai quale uso io quale sto utilizzando allora e mi se fai di riferimento in questo momento sono nexo in primis poi o yield up e celsius ragazzi e guinex la sto iniziando a utilizzare so per qualcosa legato agli euro anche perché c'è il problema legato con alla deposito che non avviene ancora su sepa però gli euro hanno un buon rendimento quindi in questo momento ho deciso di utilizzare a nexo celsius e yield up perché non uso crypto.com per la questione della flessibilità crypto.com la uso per la carta ma non la uso per la se fai ragazzi mi piace bloccare a rendimenti quel tipo se devo bloccare li blocco su yield up che mi da il 12 per cento su bitcoin ho deciso di diversificare i miei investimenti in se fai utilizzando tutte queste piattaforme non le ho utilizzate un po tutte quante ragazzi poi ovviamente ho deciso anche in base a quello che io ho capitani infiniti quindi ovviamente decido di utilizzare quelle che sono più semplici quelle che mi danno i rendimenti maggiori un po anche miscelando la questione quindi regata la sicurezza vado a usare magari un po più nexo e celsius legato al rendimento uso più yield up perché i rendimenti sono moltissimi e quindi ho deciso di mitigare un po tutti questi pro e contro e queste sono state le mie scelte e le vostre quali sono e soprattutto condividete un po queste idee generale questi questi punteggi che ho dato come sempre fatemelo sapere scrivendolo nei commenti e poi ragazzi vi dico anche sul next o perché arriverà alla fine di questo super video gigantesco ho anche utilizzato il servizio di lending perché ho preso il messo diciamo a garanzia le mie cripto le ho presi ho preso gli usd ho fatto un'operazione di trading ho speculato fatto il 10 15 per cento ho restituito le mie le usd e mi sono ripreso le mie cripto ha avuto senso questa cosa pro e contro operazione iper rischiosa ve la racconto in un altro video se vi interessa scrivetelo nei commenti siamo arrivati alla fine di questo super tutorialone questa è la mia guida per quanto riguarda le se fai e la mia esperienza ciao a tutti e noi ci rivediamo nel prossimo video